Oggi abbiamo voluto riunire qui le energie più importanti del Servizio Sanitario Nazionale, le competenze più rilevanti, quindi c'è la SINFA, ci sono tante altre studi da scientifiche, per occuparci tutti insieme di PDTA. PDTA, percorsi agnostico-terapeutico-assistenziale, che è una strategia portante attualmente per il futuro del Servizio Sanitario Nazionale. Tutti insieme faremo il punto della situazione su questo strumento di governo clinico, e tutti insieme daremo le linee direttrici per il futuro per far sviluppare al meglio questo strumento che è così importante per la vita dei cittadini, per la provvedenza delle cure e per la sostenibilità economica del servizio.